Ecco, ultimo giorno di scuola, da domani si resta a casa, che cosa ne pensate? Purtroppo sì, oggi è l'ultimo giorno di scuola, è arrivata questa ordinanza così un po' all'improvviso. Non ci aspettavamo un'ordinanza del genere in considerazione del fatto che abbiamo lavorato un'estate intera per mettere in atto tutte le misure anti-Covid. La scuola ha fronteggiato bene le situazioni di contagio che ci sono state, perché anche qui abbiamo avuto qualche contagio, ma abbiamo messo in atto tutti i protocolli previsti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che sono stati acquisiti da noi e calibrati anche sulle nostre esigenze, sulle nostre necessità, sulla necessità di andare incontro anche alle esigenze dei bambini più piccoli perché noi qui abbiamo scuola dell'infanzia, scuola primaria e nell'altro plesso abbiamo la scuola secondaria di primo grado. Noi abbiamo lavorato un'estate intera, abbiamo cercato di fare tutto il possibile e la scuola io posso dire che è più che sanificata, viene sanificata in continuazione tutti i giorni, a metà giornata c'è una piccola interruzione delle attività didattiche per la sanificazione delle aule, a inizio giornata c'è il controllo della temperatura su tutto il personale, c'è la sanificazione per i bambini, all'uscita abbiamo dei sanificatori professionali che hanno la funzione proprio di sanificare le aule, i corridoi, gli spazi comuni, i bagni, abbiamo messo in atto tutto quello che potevamo mettere, i contagi sono pochi, purtroppo è arrivata ora questa ordinanza di chiusura e quindi l'inizio nuovamente della didattica a distanza. Noi siete pronti alla didattica a distanza? Noi siamo pronti perché l'anno scorso abbiamo investito, abbiamo acquistato una piattaforma, la piattaforma Impari, abbiamo fatto la formazione, abbiamo fatto la formazione anche quest'estate, abbiamo fatto gli incontri di formazione anche a inizio anno scolastico, nell'eventualità che poi oggi stiamo vivendo. È chiaro che per i bambini manca quel contatto sociale, quello sviluppo di competenze sociali e civiche che solo la presenza e la relazione ti può dare. A di là di questo contatto, poi questi bambini dovranno restare a casa, i genitori che lavorano magari li possono portare con loro, li possono portare da qualsiasi parte, c'è il rischio comunque di dispersione, non si va a scuola ma si va da altre parti? Questo me lo chiedo anch'io, saranno veramente a casa? Questa è una domanda che mi sono fatta ieri. Questa è una domanda che mi sono fatta ieri.